Questo signore è un albanese, papà di un ladro albanese, è il cittadino il Francesco che minaccia e questo signore qua, probabilmente il suo volto non vi è sconosciuto, si chiama Francesco Siciniano. Francesco Siciniano stava nella sua villetta di Vaprio d'Adda nell'ottobre del 2015, un ladro albanese gli entra in casa, il ladro albanese è il figlio di quel signore che avete visto, lui spara e il ladro albanese muore. Ebbene adesso deve subire le minacce del papà del ladro albanese che lo minaccia e gli dice che vuole uccidere il suo figlio. Sentite. Francesco ormai ha 80 anni e la sua vita non vale più tanto, ma ha due figli e io ne ucciderò uno. Non cerca vendetta con Francesco, ma con il figlio di Francesco. Vorrei vedere Francesco che piange il figlio con una pallottola nel cuore. Finché esisterà la mia famiglia, io cercherò di uccidere. Il Canun dice tu mi uccidi, io ti uccido e dobbiamo seguire queste regole. Quando lo ammazzerò sarò molto contento. Io voglio vederlo piangere con il figlio con una pallottola nel cuore. Ma avete sentito? Ma avete sentito? Lo dico qua, lo dico qua. Ma avete sentito? Qui c'è il problema della legittima difesa, certo, due anni per uno che si difende, che sta nella sua casa. Ma c'è anche il problema di una cultura come quella di questo codice ancestrale, il Canun. Il codice applicato anche dalla mafia albanese che dopo la mafia nigeriana è la seconda. Il rapporto della DIA, secondo semestre 2018, la mafia albanese basata sul Canun è la seconda più diffusa in Italia. Ecco che cosa succede con anni di immigrazione incontrollata. Ecco che cosa succede. Un signore che stava tranquillo, colpevole di voler dormire nella sua casa, ha avuto la vita rovinata e deve avere paura.